Dopo San Cataldese-Bari, un'altra partita destinata a rimanere nella storia del club verde amaranto. San Cataldese-Catania, gara del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D di calcio, domenica 21 agosto, alle ore 16, al Valentino Mazzola di San Cataldo. L'esordio del nuovo Catania che ricomincia dalla quarta serie con un solo obiettivo, avviare subito la scalata verso categorie più consone al blasone di una città che vanta 17 partecipazioni al campionato di Serie A, l'ultima volta otto anni fa. Dalla città etnea si prevede un esodo massiccio verso il cuore della Sicilia per vedere all'opera la nuova formazione, una prima assoluta dunque per i tifosi catanesi, Un appuntamento storico che la squadra allenata da Giovanni Ferraro intende affrontare al meglio per regalare la prima gioia ad un pubblico fra i più appassionati del calcio italiano. A Catania si attende di sapere con certezza quanti biglietti saranno a disposizione della tifoseria ospite. Le richieste potrebbero superare di gran lunga la capienza del Mazzola di San Cataldo, un problema tutt'altro che trascurabile, se ne saprà di più nelle prossime ore. Certamente si dovrà tenere conto in primis dell'aspetto più importante dell'evento, la sicurezza. Intanto in casa sancataldese c'è notevole entusiasmo per il primo appuntamento stagionale, così Salvatore Maltese sulla pagina social del club Verde Amaranto. Giocare col Catania non capita tutti i giorni, pronti via ci capita subito questa grande partita, giocheremo in casa, sicuramente il nostro pubblico ci darà una mano. Credo che sarà una bella partita, sia per noi magari più grandi, ma anche per gli under che si apprestano a fare la loro prima esperienza. Abbiamo tanto da lavorare, però secondo me possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Fiducioso è il tecnico Matteo Vullo, certo che la sancataldese giocherà con il massimo impegno. Non è sicuramente l'avversario che ci può far cambiare i piani di allenamento o i nostri piani tecnico-tattici. Quindi speriamo di arrivare ancora meglio da un punto di vista atletico all'appuntamento col Catania. Sappiamo che il Catania ovviamente è una delle corazzate del girone ed ambisce al salto di categoria immediato e vorrà sicuramente dare subito una risposta forte ai propri sostenitori facendo capire che per loro questa sarà una stagione di transizione. Ma dal canto nostro per noi e per la città di San Cataldo è un evento storico avere il Catania qui, ma non è sicuramente la prima grande squadra che arriva a San Cataldo, qualche anno fa è arrivato anche il Bari. Quindi ci sarà una cornice di pubblico veramente bella, importante, sarà una festa, ma non per questo noi non ci faremo trovare pronti o ci faremo trovare impreparati. Sicuramente ce la giocheremo e venderemo cara alla pelle.